Campobasso calcistica risponde presente di fronte alla amichevole internazionale disputata ieri sera a Selvapiana Molinari contro gli inglesi del Dagger Red, quinta serie britannica, società di proprietà della Nord Six Group di Patron Rizzetta, destinata a giocare il proprio campionato a brevissimo. Al Molinari 2000 presenti e tanto entusiasmo per scoprire i volti nuovi del Campobasso di Piero Braia, presente anche uno dei soci, Rosso-Blu, l'attore Marc Consuelos pronto ad un interessante tour del Molise fra Yeltsi, sfilata delle traie e Casacalenda. Braia schiera il suo 3-5-2 con forte fra i pali in difesa Bossisio, Mondonico e Calabrese sulla corsia Mancina Averi, a destra Pierno, a centrocampo Maldonado nel ruolo di play, D'Angelo mezza alla sinistra, Prezioso mezza alla destra, in attacco forte e Di Nardo. Terreno di gioco in ottime condizioni, finisce 3-0 per gli ospiti, per la cronaca, ripercorriamo le azioni principali, minuto 7, sforbiciata di Calambai con palla contro il palo e poi ballerina sulla linea di porta, si salva forte. Undicesimo, tiro alto di D'Angelo, due minuti dopo defilato Di Nardo, prova a concludere senza trovare la porta. Inglesi sul taccuino al 14esimo con un destro anche potente di Hill, davvero felini i riflessi del portiere rosso-blu. Le squadre non si risparmiano, tutt'altro al 25esimo inzuccata di D'Angelo su cross di Prezioso, straordinario qui il portiere londinese. Al 32esimo il vantaggio del Duggerhead con un mancino forte e preciso calciato da Eastman, non può nulla il portiere del campo basso. Qualche minuto dopo, rapido contropiede ospite che sfocia nel tiro alto di Hill, vicini al bis gli inglesi. D'Angelo al 43esimo carica il sinistro con la presa del portiere Justin Elliott. Nel secondo tempo Braia manda in campo tutta un'altra squadra, dentro così i vari Sorrentino, Parisi, Celesia, Forte, Perlitteri, Scorza, Lombari, Serra, Spalluto e Fagioli. Questi ultimi due in attacco. Al terzo tiro alto di Lombari, non di molto, buono questo spunto. Dagenham sul 2-0 al decimo dopo questa uscita così così del portiere Sorrentino che diventa assist involontario per il colpo di testa comodo comodo di Grego Cox in rete. Al 22esimo annullato al Duggerhead un altro gol, la rovesciata di Fips è tolta per un fallo in attacco ai danni di Pellitteri. Nel campo basso entrerà anche Pacillo per Mancini, la cronaca del Molinari aggiunge ancora un destro di Pereira di poco sul fondo ed il punto del triss inglese al minuto 32 con un diagonale molto preciso di Remy Scholl che trafigge Sorrentino. A fine gara il pubblico della Nord Scorrano applaude i calciatori rosso-blu così come i 100 tifosi giunti da Londra salutano con calore i calciatori del Duggerhead. In sala stampa Piero Braia esprimerà un forte disappunto per la prestazione della squadra e annuncia un punto della situazione sul mercato appena dopo la prima di Coppa Italia a Giuliano il prossimo 11 agosto.